Musica Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Io sono Tortello E quest'oggi ragazzi è un giorno importantissimo Sono ritornato Cioè ma voi non potete capire quanto mi mancava Salutarvi, stare con voi E spero che questa volta Dopo circa un anno di inattività Per vari problemini ragazzi Che poi successivamente comunque cercherò di spiegarvi Perché altrimenti vi ho abbandonato Cioè la gente poi mi scriveva, mi chiedeva E io purtroppo ragazzi sono stato veramente impegnato Ho avuto problemi sia a casa che in ambito diciamo lavorativo Perché il ragazzo che mi aiutava prima Diciamo che ci sono stati degli screzzi Qualche incomprensione Quindi abbiamo dovuto un po' tamponare Quindi ci siamo smessi anche di frequentare Vabbè Quindi tutto un po' a piedi roba che comunque sia con il tempo vi spiegherò Io che vi volevo dire? Niente che sono tornato Sono tornato e spero che comunque sia questa nuova esperienza Che adesso sto facendo con un'altra persona Che mi sosterrà in questo percorso Diciamo più professionale Posso andare meglio Cioè io ci spero ovviamente Però per andare meglio Oltre a me e al ragazzo che comunque mi aiuterà Servite voi Cioè voi sarete il fulcro di tutto Perché se non ci state voi ragazzi Che comunque supportate Mi guardate eccetera La cosa non può venire bene Poi io prometto che porterò comunque sia Parecchi contenuti sul canale Comunque sia nel senso vario Non è che ci avrò solamente un tipo di gioco Un tipo di piattaforma Andrò molto come sono fatto io Cioè quello che mi piace di più porterò Cercherò poi di essere più spontaneo possibile Perché ragazzi anche una cosa che non mi piaceva Era stare trattenuto Io regà non posso stare trattenuto Cioè quello che mi viene in mente dico Quello che mi viene in mente faccio Io spero che mi continueremo a seguire Che mi darete un'altra volta fiducia E stavolta prometto che non vi deluderò Promesso Cioè parola di scout Quindi niente ragazzi Detto ciò Io vi saluto E spero Che ci vediamo al prossimo video Bella